buonasera a tutti benvenuti a questo workshop sull'anvra ho preparato come al solito due lastrine due giusto per ecco per entrare in tema del discussione alcuni sanno bene di che cosa insomma si sta parlando altri magari hanno le idee un poco chiare quindi da qui nasce l'idea di volere proprio fare una una discussione una chiacchierata appunto questo workshop allora il mio mito il mio mito è mercatore mercatore tra il mille insomma nel 1500 1600 ha praticamente si è ingegnato per riuscire a portare la sfera il mondo in tutto quello che è sul mondo sul pianeta terra su un piano no quindi per riuscire a ricreare quella cartografia che era molto importante all'epoca no sono periodi di scoperte periodi di insomma di colonialismo insomma di giro magari il mondo e vedere un pochettino come riuscire ad avere dei riferimenti ma soprattutto conoscere che è l'importante chiaramente la conoscenza quindi mercatore riuscì a con una tecnica praticamente della proiezione appunto di una sfera del globo terrestre su una su una su una mappa su un piano quindi portare un oggetto tridimensionale con una sfera su un piano bidimensionale come come un foglio ok quindi grande una grandissima innovazione all'epoca che ad oggi ad oggi è utilizzata per quanto riguarda il gps la cartografia in generale eccetera poi ci sono ci sono stati vari sviluppi quindi queste proiezioni sono state diversificate quindi abbiamo proiezioni di tutti i tipi quindi questo pianeta terra che è nato sotto mercato sotto la proiezione di mercatore poi ha cominciato ad avere altri tipi di proiezione e quindi a essere utile per diversi scopi e poi sia ad oggi oggi il cavallo di battaglia è il cioccolatino con il insomma il suo involucro la sua stagnola la sua carta questa immagine potrebbe sembrare buffa però effettivamente la dice tutta la racconta tutta noi abbiamo un oggetto tridimensionale come il cioccolatino al quale viene applicata questa questa pellicola questa stagnola colorata e una volta applicata da perfettamente l'idea del del disegno no come viene applicato nella superficie tridimensionale a cosa serve l'unvrap o l'uvimapping in generale l'unvrap l'uvimapping serve a portare appunto l'immagine cioè i piani tridimensionali su un piano bidimensionale quindi tramite l'apertura tramite riuscire a scucire appunto l'unvrap e portarlo sul sul piano e quindi poi da lì una volta che abbiamo questo unwrap che vedremo una volta che l'abbiamo sul piano possiamo intervenire per poter applicare dei disegni dei colori e quindi restituirlo all'oggetto e avere questi disegni questi colori perfettamente delineati sul sulla superficie della mesh sulla superficie tridimensionale bene qui abbiamo abbiamo blender adesso per portare come avevo detto per portare dall'oggetto tridimensionale un'immagine che si trova sull'oggetto tridimensionale su un piano bidimensionale noi dobbiamo avere qualcosa che ci permette di farlo per l'appunto è il l'unvrap sull'oggetto qualsiasi oggetto noi andiamo ad introdurre in questo caso levo il cubo che è una una mesh troppo semplice d'accordo e mi vado a complicare la vita inserendo un per esempio un cilindro ok lo scalo e poi a questo cilindro comincia a dare per esempio diverse 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 forme quindi aggiungo facce e do delle forme immaginate chiaramente questo è un esempio molto semplice immaginate magari avere costruito una mesh di un molto più complicata l'oggetto di norma si compone in mesh quindi l'oggetto tridimensionale il materiale che prende da una sorta di resa quindi alla superficie dell'oggetto ok e poi sappiamo benissimo che in pratica possiamo applicare anche delle delle immagini quindi delle tele cosiddette texture ok posso anche buttarci sopra un'intera foto no comunque sempre texture è la gestione della della texture sul sul sull'oggetto potrebbe apparire complicata innanzitutto sull'oggetto andiamo inserire un materiale quindi questo materiale che potrebbe essere un vetro potrebbe essere una superficie specchiata potrebbe essere qualsiasi tipo di superficie in questo caso noi mettiamo un normalissimo diffuse ok questa superficie dopo che abbiamo aggiunto questo materiale possiamo applicare una texture adesso andiamo a prendere una texture quindi andiamo ad applicare sul nostro oggetto 3d come potete vedere viene sparpagliata soprattutto nelle zone che ho prentestruso nelle zone che ho che sono andato a ricreare c'è questa texture chiaramente è una volta che abbiamo fatto abbiamo creato luvimapping dell'oggetto ha bisogno anche gestire questa immagine sull'oggetto e quindi dobbiamo avere un tool che ci permetta di gestire proprio questa texture che si è andati ad applicare in questo caso il tool lo possiamo richiamare sul tramite una finestra che la luvia editor nell'uvia editor attualmente non vediamo nulla abbiamo che cosa abbiamo il nostro oggetto tridimensionale e poi abbiamo un piano questo è come se noi lo vedessimo dall'alto con la nostra vista che quindi dalla parte della parte alta è proprio come se fosse un vero e proprio tavolo è un piano dove andremo a spalmare andremo ad aprire la nostra la nostra texture la texture che attualmente si trova appunto sul oggetto tridimensionale bene attualmente non vediamo nulla la creazione di una texture sull'oggetto deve seguire delle delle prerogative per essere gestita al meglio per morestando che è possibile gestire una texture sull'oggetto anche in maniera in maniera libera tant'è che non abbiamo paletti cioè non c'è un limite sulle dimensioni della texture che dobbiamo andare inserire o comunque un rapporto di dimensioni della texture in generale quindi se è più larga se più stretta possiamo agire tranquillamente però c'è da tenere in considerazione quelli che sono i pesi quelli che sono le dimensioni l'ottimizzazione se dobbiamo fare determinate cose se dobbiamo gestire al meglio la nostra scena con i nostri oggetti che magari sono tanti sono tutti texturizzati in un certo modo le scene cominciano a diventare a diventare abbastanza interessanti abbastanza pesanti in generale e il peso di una scena viene delineato anche dalle texture che vengono applicate più è grande la texture più il file peserà perché questa texture contribuirà a creare un peso in in megabyte in generale quindi immaginate una scena molto grande quanto potrebbe poi arrivare a pesare poi nella gestione del software quanto poi diventerebbe complicato andarla a gestire no semplicemente ad aprire perché in certi casi proprio aprire quel file magari richiederebbe tantissimo tempo proprio per il peso eccessivo delle delle texture quindi le texture in generale devono essere equilibrate non devono non può e sarebbe inutile scegliere magari come texture faccio un esempio un una fotografia di 16 mega magari questa fotografia deve andare in un oggetto tridimensionale su un tavolino perché magari nel portafoto che si trovi un tavolo in una scena e ci vado applicare un'immagine da 16 megabyte bene andiamo a portare la nostra vmap in 2d quando entro in edit mode all'interno del dell'oggetto già posso notare che all'interno del mio piano di unwrap vedo una proiezione questa proiezione io la vado a cancellare adesso in maniera tale che non ci confondiamo perché proiettata così bene protetta così bene perché il cilindro di default come tutte le primitive standard che si trovano all'interno di blender hanno già un unwrap un unwrap loro e quindi le trovate già ordinate ecco dove troviamo il l'unwrap dell'oggetto lo troviamo qua su vmap ok quindi questo oggetto già aveva una sua uv posso anche andarla a vellevare e quindi come potete vedere non vedo più l'oggetto proiettato sul piano ma non vedo chiaramente più sull'oggetto neanche l'immagine per ricreare sul nostro oggetto l'uvmap è molto semplice vado sull'oggetto quindi sono sull'oggetto con tutte le facce selezionate se volessi fare per esempio l'unwrap di tutto l'oggetto ok l'uvmap di tutto l'oggetto premo il comando ok o semplicemente utilizzando questo contesto ok con il tasto u quindi lo shortcut premo il primo tasto unwrap c'è avviene una proiezione totale di tutte le facce del 3d sul piano quindi ogni faccia di questo oggetto tridimensionale corrisponderà a un tassello che è stato proiettato sul sul piano di ambrap ok questo tipo di di ordine chiaramente un ordine casuale direttamente fatto da blender in auto in automatico parlando appunto del piano di ambrap atto in pratica che già ha un suo un suo una sua un vmap di default perché è un benché modificato un oggetto primitivo di blender quindi già equipaggiato di uvmap levo l'uv per ricrearlo per ricreare l'uv in pratica utilizzo lo shortcut u da tastiera oppure posso utilizzare il contesto uv con la sua tendina i comandi sono gli stessi bene in come avevo detto prima abbiamo appunto in questo caso ricreato l'uv map e mi ha ricreato blender ha ricreato in automatico l'uv map dell'oggetto sistemandolo secondo l'algoritmo con il quale è stato programmato posso cambiare anche il tipo di di uv posso utilizzare uno smart uno smart project quindi blender prende tutti i vari pezzi e li ordina in un certo in un certo modo poi senza che li spiego tutti perché bene o male sono sistemi di proiezione diciamo abbastanza semplici anche da da comprendere ok mi soffermerò soprattutto sul sull'unvrap in generale proprio il comando generalizzato dell'unvrap il lo smart project e poi vedremo project from view che pure molto importante va bene poi i concetti di mark sim e clear sim questi sono sono fondamentali ok poi gli altri possono essere approfonditi in un secondo momento senza nessun tipo di problema vado quindi a ricreare la mia la mia la mia map come abbiamo detto prima e adesso vado ad aggiungere sul sull'oggetto vado ad aggiungere come avevamo fatto prima il il materiale come abbiamo detto il materiale che cos'è allora noi abbiamo oggetto il materiale che determina la superficie quindi se specchiata se opaca insomma se ha determinati parametri per essere associata al legno al ferro eccetera poi chiaramente possiamo inserire una texture quindi un'immagine possiamo inserire prende l'immagine sul sul sulla superficie della nostra mesce quindi chiaramente dare un un apporto al livello di di bellezza del modello di realisticità del modello eccetera per gestire in maniera funzionale in maniera interessante le nostre nostre amvrap abbiamo la possibilità di utilizzare appunto come ho detto prima il mark sim lo trovate questo con questo comando questi comandi li trovate sempre premendo usa tastiera e ritrovate qua mark sim e clear sim e mark sim e il crea sim le sim in generale sono le cosiddette scuciture e in pratica in che cosa consistono consistono nel potere gestire in autonomia quelle che sono le varie superfici che vogliamo appunto aprire su questo piano seleziona adesso il loop va bene e tasto destro tutta una serie di comandi che vengono associati proprio a legge uno di questi comandi è proprio il mark sim ok quindi si rifà al mark sim dell'uvimap bene come potete vedere si è generato un contorno rosso qui sull'edige che ho che ho selezionato anche se ne seleziono uno e vado ad inserire il mark sim il software mi va a creare il mark sim su questo su questo edige anche se porterebbe solo questo qua un scompio all'interno della proiezione che poi voglio fare della sul piano bidimensionale quindi tasto destro clear sim scusate tasto destro e clear sim vado a levare il mark sim che avevo fatto a questo unico edige dopo di che cosa faccio ad esempio dopo di che potrei prendere questo loop no e potrei semplicemente di come abbiamo fatto poc'anzi di nuovo mark sim è lo stesso discorso con questo con questo loop mark sim mark sim e poi anche con quello di sotto mark sim in pratica cosa ho fatto ho creato delle scuciture ma queste scuciture non sono assolutamente sul sull'oggetto tridimensionale se io vado a prendere un vertice e lo vado a muovere non è sul sull'oggetto tridimensionale l'oggetto tridimensionale è sempre solido io non ho fatto tagli o scuciture sulla mesh queste scuciture valgono solo ed esclusivamente per l'uvimap quindi solo per questo ok dopo di che cosa faccio applico degli altri tagli perché se vado a generare se adesso vado a dire a blendere aprimi queste facce sul piano ok avrebbe difficoltà perché questo questo loop di facce è ancora chiuso ok quindi devo andare logicamente a ricreare anche un taglio che possa permettere a queste facce di poter essere aperte questa potrei anche rinunciare ok ma questo questo è sicuramente questo loop di facce deve essere tagliato tasto destro mark sim bene uno sguardo veloce potrei avere fatto degli errori non è un problema perché si può sempre tornare indietro senza nessun tipo di problema premo u e adesso do di nuovo nuovamente il comando uv map quindi il comando scusate un wrap come potete vedere adesso che cosa ha fatto il software il software non ha fatto altro che aprire d'accordo tutte quelle che sono le superfici che sono state tagliate ok quindi in questo caso posso prendere il il loop per esempio è andare a vedere dove è stato posizionato vedete questo loop ok qua sopra che io non avevo tagliato ovviamente lo ha proiettato in questa maniera circolare ok i tappi sopra e sotto sono stati proiettati così come sono è stato proiettato anche il colletto questo colletto qua come potete vedere no è stato aperto in maniera ordinata perché è stato presente tagliato sopra tagliato sotto e tagliato in mezzo quindi si è presente aperto direttamente sul piano questo colletto ha subito però una differenza non è stato aperto direttamente sul piano perché ovviamente questo ha seguito la regola del del cono no quindi se io prendo questo lo chiudo qua si chiude e prende ovviamente questa forma come detto una volta che ho applicato questi tagli quindi questi tagli sulla sull'uv map e non sulla mesh ok e tutto quello che io faccio in questa finestra deve essere chiaro che non ha effetti sulla mesh ma ha effetto solo e unicamente sulla uv map ok quando io muovo questo questi oggetti dell'uv map questo unwrap queste questi piani di unwrap questi oggetti che si trovano nel piano unwrap io non sto assolutamente muovendo facce vertici o spigoli della mia mesh tanto che vedete io lo sposto ma non succede assolutamente nulla sulla mia mesh questo concetto deve essere bisogna farlo proprio quindi la gestione della mesh la si fa dalla 3d view la gestione l'unvrap la si fa dalla uv editor ma non sono assolutamente invasive su una o sull'altra bene al nostro oggetto andiamo adesso a per esempio a dargli una texture un attimo di pazienza ok e quindi abbiamo applicato un nuovo materiale il materiale serve a dare concretezza alle superfici va bene però abbiamo detto anche che si può fare molto di più quindi a queste superfici si possono applicare anche delle texture quindi delle immagini bidimensionali colorate o delle fotografie quindi aumentare quindi il dettaglio quindi tramite il canale color possiamo aggiungere per esempio immagine texture e quindi andare ad applicare un'immagine proprio sopra le superfici della mesh quindi delle vere e proprie immagini applicate all'oggetto tridimensionale in questo caso posso agire come posso prendere una immagine qualsiasi chiaramente queste sono solo delle prove giusto per dare dare l'idea d'accordo quindi posso prendere delle immagini via c'è alex che saluto e applico per esempio in maniera molto così molto speditiva l'immagine di questa radio ok quindi ho messo sono andato a inserire sul sul piano di ambrap un'immagine questa immagine chiaramente influenzerà che cosa andrà ad influenzare quelle che sono sono stati i tagli cioè quelle proiezioni che io sul piano di ambrap delle mie della mia mesh ok quindi come potete vedere queste proiezioni seleziono solo queste proiezioni che fanno riferimento a questa parte qua del di questa specie di cilindro va bene quando vado a muovere con g come potete vedere il movimento della proiezione ha effetto sulla mesh sulla livello visivo ok quindi posso per esempio scalare no e per esempio andare a mettere questo ad inserire queste questo piano di ambrap per esempio qua nel nel legno con r ruoto no e possa andare ad inserire per esempio questo piano s e dare una parvenza per esempio vedete quindi questo questa parte del cilindro a pretente stato rivestito totalmente con la texture della radio nella posizione che ho scelto quindi è uno strumento molto potente l'unvrap ma è chiaro che deve essere capito una volta capito vi assicuro che non c'è nessuna difficoltà nella lavorazione però deve essere innanzitutto metabolizzate qui entrando nuovamente in in edit mode ho nuovamente la possibilità di gestire l'unvrap se seleziono tutto quanto l'unvrap vi faccio un altro esempio e lo sposto no quindi vado oltre in realtà questa texture noi la vediamo una volta ma può essere in realtà è ripetuta tantissime volte nello spazio ok per comodità il software ci fa vedere la un'unica immagine io ho spostato il mio le mie proiezioni all'esterno ma in realtà non ho fatto altro che rispostarla nella stessa immagine che si trova sotto ok tant'è che se io la metto qua vedo alcune cose d'accordo se la metto qua vedo le stesse identiche cose ok perché qua c'è la stessa immagine proiettata sotto c'è anche la possibilità di vederle tutte queste proiezioni ma non interessa solamente vedere questa ad esempio in questo cerchio vedete in questo piano della mia mesh vorrei fare un esperimento vorrei andare a mettere questo cerchio dell'orologio qua del delle frequenze ok rientro seleziono per esempio solo questa questo piano d'accordo e quindi mi si evidenzia in unica soluzione all'interno del mio piano di unwrap lo seleziono e lo porto per esempio qui sul sul sulle frequenze con s vado a regolare no quindi vado a screcciare quella che è la l'immagine quindi la vado ad aggiustare per renderla diciamo tondeggiante per farla entrare all'interno delle mie frequenze con esserla ingrandisco vado a prendere anche un po di oro ok quindi della cornicetta d'oro d'accordo e come potete vedere si è andata a stampigliare proprio sul tappo del mio del mio oggetto vedete semplice semplice quindi in teoria potrei anche no in funzione della costruzione del mio oggetto tridimensionale se lo volessi realizzare come faccio di solito io chi mi conosce lo sa io utilizzo molto il knife knife perché mi hanno tirato le orecchie non si chiama knife ma knife in pratica utilizzando il knife prendente posso lavoro direttamente sulle immagini che proietto sugli oggetti quindi in questo caso per esempio cosa potrei fare io potrei con il comando i inserire un altro un altro loop all'interno e poi con e per esempio potrei estruderlo e quindi creare per esempio questo effetto del mio oggetto ok o per esempio potrei anche andare a prendere appunto utilizzando il tool questo tool che adoro per esempio potrei tagliare le lancette adesso le taglio proprio in maniera barbara giusto per per esempio potrei prendere queste lancette e andare a tagliare direttamente direttamente in maniera così proprio in maniera così barbara e prendere per esempio estrudere no e quindi avere un effetto un effetto un effetto sul sul un effetto migliore quindi un effetto di uscita delle lancette quindi avere queste lancette a disposizione su un oggetto magari a distanza ha fatto anche magari così grezzo non si noterebbe neanche ok posso chiaramente andare anche a correggere quelle che sono le cose che non vanno magari nel nella posizione lancette questo strumento potentissimo abbiamo detto alla particolarità di potere di poter essere gestito veramente a livello millimetrico ok quindi io posso per esempio andare a correggere alcune cose che magari non mi piacciono cose che piccolezze magari per esempio posso andare a muovere il singolo vertice vedete cosa succede se muovo il singolo vertice come potete vedere nella mia nella mia nel mio piano di unvrap io sto andando sopra loro qua sopra questo bordino d'oro è chiaramente visibile adesso sul fondo perché sto muovendo l'unvrap della faccia di fondo dove ci sono appunto i numeri e quindi questo significa che se dovessi fare un errore o c'è qualcosa che vorrei nascondere no come questo bordino che va sotto e qua invece si vede adesso io che cosa faccio lo io qua lo vedo quindi posso prendere per esempio i vertici questi qua praticamente e muoverli o in massa o utilizzando la selezione ponderale o a mano uno per uno quindi posso farlo in diversi in diversi modi muovendolo posso andare ad escludere per esempio questo bordino interno che non voglio che si vede all'interno della piano delle frequenze no quindi vado a vedere non c'è più quel bordino che mi dava fastidio ok quindi immaginate la potenza di questo tipo di di sistema che è un sistema ponte in pratica io lo dico sempre lo chiamo sistema ponte è un sì l'uvimapping l'unvrap in generale è un sistema ponte che mi permette di gestire le texture 2d su un su delle facce che si trovano in 3d quindi che sono proiettate in tridimensionale come questo il resto no questo oggetto molto semplice che si è andati a realizzare ad esempio posso prendere per esempio queste queste proiezioni no che abbiamo fatto prima ok che nel caso precedente li abbiamo portate fuori dal piano che ci interessa ok adesso io le prendo le porto per esempio qua stesso discorso con r con r le giro no le potrei portare per esempio qua magari le posso scalare sto facendo adesso sono degli esempi grezzi no però per farvi capire che poi alla fine possiamo davvero fare tante cose in questo caso si vede questo bianco non voglio che si veda questo bianco è presente è stato preso da qua io potrei selezionare questi vertici g riporta un po più su è il bianco non lo vedo più visto è questo qua diciamo è un esempio grezzo ma andiamo invece a parlare di qualcosa di più complicato andiamo a vedere un pochettino come potere fare cose cose più sistemate perché questo è un esempio grezzo abbiamo visto per esempio applicando appunto una texture un direttamente sul sul materiale come poter eventualmente andare a lavorare sul direttante sulla tex che applichiamo questo cosa vuol dire che se ho un piano 3d o comunque un cubo prendo una faccia del cubo 3d e vado ad applicare per esempio l'immagine di un palazzo ok chiaramente essere dritte in un certo modo la fotografia eccetera potrei andarmi a ritagliare quelle finestre potrei fare un po di cose eccetera e sistemare grazie all'unwrap la questa fotografia sul sul sull'oggetto tridimensionale andiamo a vedere invece un caso che pure molto molto importante ed è quello di dell'esportazione della del piano d'unwrap ok qui crea una una texture proprio direttamente da quello che noi vediamo qui quindi dalla proprio dall'unwrap si va su uv nel uv editor mi raccomando uv bene export uv layout si clicca chiaramente il software ci chiede dove la vogliamo andare a mettere e io praticamente gli dico test la chiameremo test test trattino un wrap qui ci sono dei parametri potrei dire all uv quindi tutte le uv che si trovano qua il tipo di esportazione png è la migliore perché chiaramente anche le trasparenze opaciti mettiamo 1 ok potremmo anche mettere di meno potremmo anche accettare lo 0 25 che ci da direttamente software ma avremo una una texture in pratica molto leggera d'accordo invece io di solito la metto a 1 direttamente proprio colore pieno e esportiamo semplicissimo velocissimo poche cose che cosa mi ha generato cosa ho io adesso a disposizione a disposizione adesso proprio il piano d'unwrap in una texture questo è diventato un'immagine un png normalissimo con l'immagine sparata del mio del mio unvrap quindi qualsiasi tipo di unvrap ho fatto che l'ho fatto a mano che l'ho fatto tramite il sistema che l'ho fatto ordinato che l'ho fatto disordinato non mi interessa ce l'ho questa uv map adesso per esempio è questo questa proiezione la apro normalmente con qualsiasi programma nel mio caso apro gimp o gimp come meglio lo si vuol chiamare e in pratica adesso vado a fare delle semplici modifiche va bene poca roba quindi vi ricordo che questi sono semplicemente sono appunto questo workshop vuole essere semplice esplicativo va bene sebbene vi ricordate avevamo detto che questa proiezione no era nella parte del cilindro sotto la più la più larga va bene quindi diminuisco le dimensioni mio pennello va bene quindi vado a girare a colorare eccetera poi c'eravamo detti che in questo caso no questo era la parte superiore dove c'era poi spuntava poi il collarino in generale poi cambiamo colore e andiamo a vedere che cosa con un blu questa era la parte sotto quella conica e quindi ci restituisce una proiezione conica va bene poi andiamo a prendere per esempio un giallo è questa parte era la parte del collarino subito sotto e poi chiaramente cambiamo colore e andiamo a fare l'altro e tanto li vedremo proprio in chiaro ok io adesso li ho colorati così in maniera molto barbara ma immaginate se per esempio no vado a prendere una foto la mia foto quindi prendo la mia foto e la metto presente qua con la gomma vado a levare magari quello che è di troppo vado ad aggiungere un canale alfa se no non non si vedranno le trasparenze perfetto ho creato questa immagine è sola la salvo in questo caso la salvo su se stessa perché è sempre una prova adesso che cosa facciamo adesso richiamiamo sempre dal materiale una immagine texture ok in questo caso andiamo ad aprire appunto per l'appunto il quello che abbiamo quello che abbiamo creato poc'anzi ok quindi lo vediamo qua e lo apriamo come potete vedere abbiamo la mia immagine sotto no e il bello è che adesso posso anche andare a fare delle correzioni come come nel 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 caso scusa alessandro posso fare una domanda assolutamente sì allora quando tu hai esportato adesso il png sì quel diciamo la mesh tutti i tracciati che compongono la mesh lui l'ha trasformato in immagine sì esatto quindi li vedi anche in gimp proprio come immagine quindi quelle cose lì questo mi è molto utile io in teoria potrei anche blender di norma lo mette a 0 a 0 25 quindi vengono leggeri leggeri per non disturbarti ma nota che tu hai per esempio c'è colorato sopra oppure c'è messo un'immagine sopra chiaramente non si vedranno più è chiaro che quello in evidenza li vediamo qua ma dove io ho passato il colore ovviamente non li vedo più come non si vedono in generale dove ho passato il rosso vedi non si vedono vedi qua è pieno quindi si lo vedi perché lui ti esporta ogni riga ogni cosa qualsiasi cosa ma quando tu hai preso una immagine no per esempio riportiamo l'amico mio all'interno d'accordo buon mercatore e in questo caso per esempio faccio uno uno scratch del dell'immagine di mercatore e la vado la vado a ad inserire all'interno non lo vado a sovrascrivere e vado a riesportare a richiamarmi di nuovo la nuova mappa chiaramente come puoi vedere le linee non si vedono più ok va bene chiarissimo grazie cosa dobbiamo sapere dell'esportazione di della della dell'uvi map l'esportazione lupi map chiaramente comporta cosa andare a gestirla anche quindi quando io vado su v map faccio l'esportazione lui mi chiede le dimensioni che non a caso mi da 1024 per 1024 che diciamo che è la texture standard molto utilizzata nel mondo dei videogiochi diciamo è una texture standard che mediamente è quella più usata quella che dà meno problemi in generale che è ben bilanciata nel diciamo nella in un buon rapporto di qualità peso eccetera chiaramente questa la possiamo moltiplicare la moltiplicazione di questa grandezza quindi del piano di texture quindi quel questo piano che noi stiamo utilizzando questo quadrato dove si vanno ad imprimere a stampigliare le mie proiezioni ok questo è 1024 per 1024 ok l'isola bene è chiaro che questa genera una png 1024 per 1024 quindi 512 per 512 dice 128 per 128 posso anche chiaramente variare il rapporto anche se avere un rapporto sbilanciato come questo non è non è a livello computazionale utile conviene utilizzare sempre multipli come la ram in generale quindi 128 128 256 256 512 512 512 1024 1024 e vado a salire quindi 294 mi paro 296 per 296 e continuare a salire in questo senso quindi utilizzare questo tipo di proporzione come se ragionassimo con i numeri della ram in pratica ok questo aiuta il sistema alla una computazione sempre migliore quando io utilizzo un rapporto di questo tipo tipo 1024 per 2750 il software quando va a calcolare questa questa texture chiaramente se non ricordo male dovrebbe considerare il rapporto più alto rispetto a 2000 a 2750 quindi è uno spreco di risorse inutili quindi utilizzate le texture in ordine diciamo fate le quadrate utilizzate il rapporto come se fosse la ram quindi 512 per 512 1024 per 1024 e così via questo sicuramente creerà una texture ottimizzata per la gestione nel rendering o comunque nel nella gestione per esempio nel nella produzione per esempio di videogiochi in generale eccetera va bene quindi questo tenetelo sempre a mente cosa posso fare anziché utilizzare la una un'immagine inserita da me potrei tranquillamente utilizzare per la gestione della dell'unvrap un sistema molto semplice quindi potrei tranquillamente andare a gestire la mia il mio piano di texture generando appunto un'immagine un'immagine che posso chiamare come voglio in questo caso lascerò un titolo va bene anziché bank quindi vuoto vado a utilizzare una facilitazione che blender da nella gestione delle texture che è presente luvigrid e premo che nell'uvigrid come vedete mi dà questa specie di scacchiera con tutti questi con questi marker ok è molto utile è molto utile perché posso andare a gestire sul mio sul mio sulla mia immagine sul mio sulla mia messe posso utilizzare appunto questo questi marker per gestire la grandezza delle varie texture che sto andando a delle varie isole che sto andando a sistemare va bene come potete vedere vediamo il che sul nostro oggetto si è andato a proiettare per l'appunto la nostra immagine del check ok cosa a cosa serve avere la proiezione di questa immagine cioè che serve innanzitutto a capire se è la nostra le nostre proiezioni sono ordinate queste le evidenzio le seleziono tutte così le possiamo vedere bene come potete vedere per esempio nella parte qua sotto la proiezione non è ordinata perché chiaramente è ricurva no perché fa l'effetto cone eccetera potremmo avere per esempio qua sopra no faccio un esempio è quindi se questo lo scaliamo a s no potrebbe verificarsi che in fase di unwrap potrebbe presentarsi un check così grande rispetto magari a questi che sono abbastanza uniformi come come dimensioni questo significa che la nostra la nostra proiezione è troppo piccola rispetto alle altre questo comporterebbe magari che in questo caso i pixel della texture potrebbero anche non vedersi non si fa magari molto caso magari a un'immagine un po' pixelata o comunque un'immagine diciamo relativamente di qualità o di bassa qualità ma in questo caso potremmo vedere davvero serie c'è una una immagine davvero compromessa perché più più è grande più vedo l'effetto pixel no effetto raster delle immagini raster l'effetto pixel delle immagini raster ok quindi potrei tranquillamente andare a correggere questa questo errore tranquillamente selezionando sul mio piano di unwrap appunto la proiezione andarla ad ingrandire in maniera tale da renderla di grandezza uniforme no al resto ok questo mi aiuta ad avere delle immagini proiettate sulla mesh diciamo bilanciate quindi non avrei parti anche con pixel grandi parti con pixel molto piccoli quindi un'immagine di quali una qualità dell'immagine superiore in certe parti è una qualità d'immagine inferiore su altre questo deve essere sempre controllato quando già in fase di costruzione di questo di questo oggetto quindi devo tenere in considerazione questo oggetto su come verrà visto dalla dalla mia dalla mia telecamera quindi come dovrà essere messo poi nella posizione della scena quanto più da quanto vicino dovrà essere visto questo oggetto quanto lontano dovrà essere visto questo oggetto questo è uno strumento valido molto valido è potente la lamprapp molto potente detto questo dobbiamo parlare un pochettino degli spazi invece che si vanno a creare su quest'isola no dove ci sono tutte le nostre proiezioni come potete vedere io ho degli spazi vuoti qua spazi vuoti qua degli spazi vuoti spazi vuoti molto ampi in questa zona eccetera considerate che questi spazi vengono vengono conteggiati nel peso totale ok quindi è buona norma utilizzare quasi tutto lo spazio dove si riesce chiaro però lavorare nell'utilizzo di tutto lo spazio possibile di questo piano di texture perché quando io per esempio ho fatto l'esportazione poc'anzi no della appunto del mio unwrap no la texture non è solamente dove io ho le immagini la texture è tutta quindi questo spazio vuoto non utilizzato è conteggiato nel nel peso totale del file quindi è buona norma andare a gestire tutto lo spazio possibile immaginabile quindi quanto più quanto più posso utilizzare questo spazio tanto più andrà a favore del mio progetto quindi sicuramente muovendo i miei vari pezzi posso arrivare a poterlo gestire direttamente poi esiste come ha fatto vedere pix in una diretta ha fatto vedere un addon che crea un'isola quindi crea una proiezione perfetta quindi il software questo addon non fa altro che minimizzare al massimo questi spazi e quindi avere una texture che ha un peso però è sfruttata sicuramente al cento per cento rispetto magari a questa proiezione che è stata fatta che è stata fatta adesso ti volevo chiedere una cosa rispetto a quello di prima quando hai fatto il l'operazione non lì del sim se fai soltanto u poi lo stesso fare le sim giusto sì le le mark sim quindi invece di fare tasto destro sì questi fanno direttamente con uno andiamo a provare adesso prendo vabbè creò un cubo in generale strudere da quasi quindi io prendo il mio oggetto ok prendo per esempio premo u ma che sim lo puoi fare non c'è bisogno di fare tasto destro e avere più cose sì sì è giusto per far vedere far vedere il comando però alla fine sai lui ti fa vedere tutti i sistemi così tu puoi orientarti perché io in teoria lo posso fare anche da qua è chiaro l'importante che il concetto è che i mark sim servono per la gestione del taglio dell'upimap dell'unvrap non serve assolutamente tagliare la mesh quindi io questo comando quando faccio tasto destro che è su edge sembra questi comandi chiaramente hanno azione sull'edge fisico 3d del modello della mesh questi due no ok detto questo andiamo a vedere un una cosa che vi voglio spiegare riguardo il appunto le proiezioni prendiamo per esempio questo piano è solo un piano ma potremmo tranquillamente prendere per esempio un oggetto più complicato in questo caso prendere per esempio un toroide ok questo toroide è una primitiva standard quindi è una primitiva che si trova direttamente su su blender quindi questo toroide se andiamo a vedere è già provvisto della sua UV mappi noi abbiamo visto l'unvrap lo smart project la proiezione da vista cioè in pratica io adesso sto guardando il toroide con la mia vista in questa angolazione quando vado ad utilizzare proiezione da vista ok mi va a creare una un'unvrap della vista queste sono sempre le facce del toroide però sono praticamente orientate sul piano bidimensionale come se fossero scattate no quindi come se questo oggetto fosse messo davanti a un piano e con uno strumento di radiazioni imprimessimo l'immagine di questo toroide sul piano 2d ok se muove il toroide d'accordo e vado a fare di nuovo la proiezione da vista come potete vedere lui me la va sempre a rigenerato ok voi vi starete chiedendo sì ma per quale scopo serve una cosa del genere e io vi dico ve lo sottolineo sono importantissimi UV smart è per quello che vi dico io proiezione from view quindi e adesso vi spiego il perché crea un piano ok S ok lo ingrandisco un pochettino no e su questo piano vado a vado ad inserire una foto per esempio la foto come abbiamo detto abbiamo detto per esempio di uno stabile in questo caso si tratta di di una chiesa va bene quindi sto proiettando l'immagine di di questa chiesa questa foto è stata fatta da a me chiaramente non è stata fatta dritta ma è stata fatta dal basso verso l'altro poi con un software come Gimp ho regolato lo sbandamento va bene vi posso pure fare vedere la foto originale in maniera tale da da capire che cosa sto dicendo questa era la foto originale ok quindi è stata fatta dal basso verso l'alto eppure leggermente storta con Gimp quindi bisogna sapere utilizzare io lo dico sempre un software per la manipolazione bidimensionale ho raddrizzato questa immagine o raddrizzare significa portare dritte appunto tutte quelle che sono le parti che devono essere dritte bene ho inserito la mia immagine adesso questa siccome è molto è molto screcciato adesso lo riporto un pochettino in bene per comodità adesso questa immagine la giro alessandro sì siccome è che open source per linux sistemi operativi riusciti magari più avanti a condividere un link che spiegano come fare questa funzione con Gimp perché potrà molto utile per le immagini che si realizzano e trasformarle in bidimensionali o in proiezione ortogonale sì 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 ma per fortuna non è difficile cioè adesso te lo faccio vedere apro di nuovo Gimp giusto così in un attimo non ruberemo troppo tempo perché avere un'immagine dritta è importante chiaramente perché più è dritta l'immagine meno meno problemi meno meno cose dovrò fare su blender per esempio per raddrizzare un'immagine come quella che abbiamo visto no io di solito che cosa faccio seleziono la base che quindi tenendo in riferimento quelli che sono la parte più larga dell'immagine no la duplico e quindi mi si crea un altro un altro layer dove c'è praticamente solo il pezzo che ho che ho preso in pratica e poi con lo strumento che è in pratica questo qua un Gimp vado a raddrizzare magari servendomi di come si chiama di riferimenti in questo caso utilizzo questa questa linea che si crea e vado presente a raddrizzare la mia immagina così è molto semplice uno strumento potentissimo e in tutti i tool e in tutti i programmi di editing di editing 2d transform ok posso utilizzare per esempio delle righe no per tracciarmi le linee più dritte possibili no in questo caso per esempio è dritta quella di sopra sì no bu non lo so io affiniti al fine lo fanno tutti i programmi di fotoritocco ok e come si chiama la funzione la funzione che sta qua in italiano strumento trasformazione unica ma alla fine gli strumenti di base sono ingrandisci gira specchia oppure in pratica gestisci l'immagine in maniera libera vedi non è altro che uno screcciatore in pratica fra virgolette va bene giusto giusto andate andatelo a cercare sul vostro programma di editing 2d perché c'è sicuro quindi non si scappa tornando a blender ok non si può fare su blender questo questo si può fare anche su blender se io se la mia immagine fosse storta potrei farlo direttamente dall'unvrap ma sarebbe un lavoro massacrante che preferisco fare dal dall'editing 2d cioè io in pratica mi porto in blender l'immagine migliore che posso gestire in blender per non essere poi disturbato perché un'immagine tutta storta che non ho raddrizzato in blender lo dovrò fare con blender quindi dovrò giocare sul sul sull'unvrap con l'unvrap con gli errori che comporta perché quando io vado a gestire un'unvrap non è detto che vada tutto perfettamente bene quindi magari dovrò fare dei tagli però queste cose neanche queste cose ve le accenno ma ve ne accorgerete direttamente poi lavorando bisogna lavorare tanto con un'unvrap è vero per acquisire acquisire parecchia padronanza però non è non è diciamo non è un problema più ci lavorate più si risolvono i vari guai ok allora contro r prendo una linea ok contro r scusate contro r e vado a pretende suddividere per esempio il mio i vari particolari che ci sono sul sul su questa chiesa ad esempio ok qui adesso andiamo a vedere per esempio estrudiamo sempre sempre per esempio estrudiamo questa parte ok perché nell'immagine mi dà questa questa estrusione questa parte più più esterna ok adesso io che cosa ho fatto ho utilizzato un comando distruttivo cioè ne ho usati già due che chiaramente il knife che taglia la mesh e quindi la distrugge è un comando estrude che peggio di peggio va a ricreare delle facce che prima non c'erano queste due laterali prima non c'erano no questo movimento di screcciatura non fa altro che idealmente ok prendere questa faccia d'accordo e portarla verso di me se la vediamo dal punto di vista dell'uvi editor ok quando la porta verso di me questa immagine quindi da qui verso 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 me e nel 3d se lo andiamo a vedere da qui verso me lateralmente andiamo a vedere si trascina quindi l'immagine quindi la screccia il cosiddetto scratch del della texture vedete questa è un'immagine screcciata se io vado a selezionare questa faccia guardate che cosa vedo io qua io qua vedo una linea vedete bene se vado a selezionare tramite gli spigoli io qua sembra che una linea la vado a muovere in realtà sono due linee vedete vedete come si comporta ok perché quando così è sovrapposto perché sono queste due linee viste frontalmente con questa faccia che è stata creata che si è trascinata ha screcciato cioè ha allungato la texture ok per poterla sistemare potrei semplicemente muovere uno dei due spigoli della dell'unvrap ok di questa faccia ok e lo potrei andare a sistemare beh vedete adesso si è potenzialmente sistemata potrebbe andare bene anche così vedete c'è per un però se vado a selezionare queste due facce adesso ok scusate quindi seleziono queste due facce la frontale e la laterale sono una sopra l'altra ok questo non va bene nel piano di unvrap ok quindi seleziono tutto tutto sul piano di unvrap non possono andare un'immagine sopra l'altra qui questa non può essere sopra quest'altra ok voi vi domanderete sì ma l'effetto è buono cioè è perfetto non sta facendo altro che richiamare questa texture qua adesso se io devo fare un'immagine statica alla quale non devo fare nulla non devo fare nessun altro tipo di processo non devo utilizzare per esempio to substance painter che quindi lavora proprio sulle sulle sulla sull'unvrap o volessi per esempio fare un bake della texture abbiamo detto che il bake della texture non fa altro che imprimere sulla texture quelli che sono gli effetti ambientali del 3d quindi io ho una luce se faccio il bake della texture lasciando perdere che questa fotografia ha delle ombre no no ma se questa fotografia fosse stata ripulita o fatta in una giornata di nuovo nuvolose che non crea ombre se voi andate dovete fare per esempio le fotografie a un edificio dovete fare queste fotografie in giornata coperta quindi con le nuvole va bene quindi una di quelle giornate proprio chiuse cupe grigie d'accordo perché non ci sono non ci sono proiezioni di ombre ok il sole viene coperto la giornata è luminosa ma le ombre non vengono proiettate perché il sole è nascosto appunto dal dal dalle no dalle nuvole e quindi in quel caso si fanno le foto quindi senza ombre e quindi posso gestire queste foto all'interno di blender utilizzando quindi posso andare a proiettare sui modelli posso creare i modelli con quelle foto e posso utilizzare le ombre delle luci va bene che vengono generate da da blender una foto come questa non è utilizzabile se volessi fare un ambientazione notturna no perché queste ombre sono già proiettate quindi l'unica cosa che posso fare è creare un ambiente no unico con le luci posizionate in modo tale che se ci sono altri oggetti proiettino l'ombra nella stessa direzione ok quindi però nel nostro caso mettiamo che volessi fare il bake quindi il bake appunto io ho questa texture di base questa texture vado ad imprimere ombre effetti bump ambient occlusion cioè tutte quelle cose che sono disponibili in blender per migliorare l'ambiente eccetera vengono impresse automaticamente grazie al baking sulle texture quindi ho una texture d'accordo con tutti questi effetti impressi ricordo sempre il museo del bersaglio che ho fatto vedere spesso bene e in questo caso se ho delle facce sopra facce non posso fare il backing della texture perché dove c'è questa faccia sopra nel piano di unvrap questa faccia sopra un'altra faccia viene automaticamente la faccia sotto viene nera ok quindi avremo questa faccia ben sistemata ok quindi questa si vedrà bene su questa faccia invece verrà proiettata una linea nera perché questa faccia che io vedo bene qui che ma è un escamotage è stato andarla a posizionare a screcciare sopra quest'altra e vedrò il nero quindi l'unico modo per poter fare una cosa del genere è ritornare sul mio sul mio programma di editing in questo caso se io volessi che creare quell'effetto che ho fatto prima dovrei per esempio prendere la mia texture una copia di questo pezzo contro c contro v ok lo consolido per esempio lo sposto da una parte magari di queste texture che non mi serve no è questa qua salvarla vado di nuovo su blender prendo questa immagine quindi mi richiamo chiaramente la texture che ho variato ok 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 esporta ok quindi come vedete ho il pezzo che sono da aggiungere in questo caso devo prendere questo ok la devo trascinare fuori ok quindi come fuori però seleziono questa questa questo lato mi metto lateralmente ok ok lui mi crea no il pezzo vedete il laterale il laterale lo vado a posizionare qui su quel pezzo che non che in pratica o dovrà fare solo questo quindi e lo vado a sistemare perfetto stesso risultato identico non cambia nulla una cosa si dimmi dato che questo quadro è detto che ci sono ripetute no queste immagini se trovo facevi su un altro punto dove è ripetuta quell'immagine non andava bene allo stesso su tutta la scheda è vero si ripete ma ha sempre validità qua in pratica l'unico modo per poterlo fare è quella di creare una immagine texture di base in questo caso come se volessimo fare anche un personaggio io adesso ho messo questa questo qua un'immagine di edilizia questa di una chiesa eccetera ma anche se io avessi l'immagine di un personaggio un'immagine di una qualsiasi altra cosa eccetera devo andare a crearmi all'interno della mia texture dei pezzi in maniera tale che i vari i vari i vari un wrap non si sovrapponga l'uno all'altro ok questo è fondamentale vi ripeto se non ho grosse necessità non devo fare bake non devo utilizzare substance painter non devo fare per esempio videogiochi o cose strane eccetera devo fare solo un'immagine statica o devo fare solo un'animazione senza nessun tipo di cose strane posso anche fare quella sovrapposizione io lo faccio spesso però devo tenere sempre in considerazione che se lo faccio con quel modello con l'unwrap fatto in quel modo non potrò fare alcune cose va bene? quindi se dipende sempre da cosa dobbiamo fare se devo sacrificare tempo perché devo sistemare le cose perché poi voglio fare un bake fatto bene dell'ambiente occlusion quindi non voglio mettere l'ambiente occlusion direttamente su blender quindi non voglio che mi renderizzi l'ambiente occlusion quindi crei peso e quindi l'ambiente occlusion lo vado a stampigliare direttamente sulla texture quindi perdo meno tempo nel rendering oppure non abilito l'ambiente occlusion nel gioco oppure il gioco lo distribuisco con l'ambiente occlusion stampato già sulle texture in maniera tale che anche chi gioca con console magari datate quel gioco lo vede bello vede l'ambiente occlusion che magari verrebbe disattivato in console vecchie in giochi magari prestanti perché il gioco che fa il gioco per esempio per pc se tu hai una scheda video un computer eccezionale no allora tu abiliti quindi metti al massimo le prestazioni eccetera quando hai un computer che non è molto prestante e il gioco chiede molte risorse e tu devi cominciare ad abbassare quella sticella quindi da effetti estremi lo devi mettere medio magari da medio lo devi mettere piccolo ma dove va ad agire? va proprio a levare tutti gli effetti per esempio le ombre in tempo reale va a levare l'ambiente occlusion fa un gioco sulle texture che mette texture meno grandi quindi le texture più leggere in maniera tale che il sistema deve fare meno calcoli lì va a giocare l'asticella di un videogioco per esempio no? sono proprio tutti quegli effetti che vengono calcolati in tempo reale e che hanno hanno un peso non indifferente sul sulla computazione della macchina cose che invece possono essere fatte a priori stampando ad esempio l'ambiente occlusion direttamente sulla texture come fanno tantissimi giochi del resto il problema dell'ambiente occlusion è che gli oggetti se io utilizzo l'ambiente occlusion per esempio c'è un tavolo e quindi quel tavolo viene fatto l'ambiente occlusion non lo potrò più spostare dovrà rimanere la fisso perché se sposto il tavolo l'ambiente occlusion rimane per esempio sul pavimento impresso sul pavimento e quindi si vede che lì c'era qualcosa che ha lasciato delle macchie nere un pochettino sbiadite perché poi lì c'è l'effetto ambient occlusion quindi dove ci sono facce che si toccano facce che si toccano o unwrap che si tocca si crea nero ok è fondamentale chiaramente è come tutto nel mondo 3d ragionare prima quindi capire bene cosa si deve fare cosa si vuole in generale e quindi da lì programmare il lavoro quindi posso permettermi di fare un lavoro grezzo che prevede piano d'unwrap sovrapposto sì perché tanto non devo fare niente vabbè lo faccio non è un problema ok invece devo utilizzare per esempio sabster painter quindi devo fare l'oggetto super figo perché devo fare questo e quell'altro piano d'unwrap deve essere pulito devo fare il bake piano d'unwrap deve essere pulito quindi va tenuto in considerazione ok ma soprattutto vi prego di tenere in considerazione quello che io ho fatto con questa faccia cioè anche questa faccia qua vedete questa faccia è sparata ok quindi è screcciata io mi metto lateralmente ok ok questo qua è quello giusto quindi come potete vedere io vedo la la screcciatura premo quindi vado a fare il bake scusate l'unwrap di solo questa faccia selezionata u project from view chiaramente devo sempre essere in visione orto perché se non sono in visione orto ma sono in questa visione vi faccio vedere la differenza per esempio in questa visione quindi ho selezionato la faccia la sto vedendo no premo u project from view vedete come viene viene come la vedo quindi larga qua e stretta qua e quindi quando vado a fare per esempio un lavoro di questo tipo g che la vado magari a mettere qua è chiaro che poi non combacia più no e quindi poi per sistemarla no rispondendo a quello che mi chiedevi mi chiedevi prima devo intervenire a mano quindi devo prendere questa questo punto ad esempio no e muoverlo per richiuderlo vedi e lo vado a sistemare adesso questo è molto semplice per sistemare questo è stato molto semplice ma tu immagina ad avere una mesh molto complessa cosa significa poi andare veramente a sistemare millimetricamente quello che abbiamo fatto adesso in una mesh molto complessa diventa rognoso quindi io devo avere gli strumenti e le texture già generate per poter avere un per poter operare sull'unvrap nella maniera migliore perché comunque lavorare sull'unvrap è stressante quando abbiamo dei modelli molto molto complicati noi adesso stiamo vedendo un modello di di una fotografia di una quindi architettonico di una chiesa abbiamo fatto solo una colonna però immagina poi quando io devo cominciare a lavorare su qualcosa di complicato come questo magari come questo magari magari uno stabile ancora più complicato più complesso e già diventa più molto più rognoso fare una cosa del genere ok per esempio in questo caso no ovviamente perché io non era andato su io ho attaccato solo questo pezzo però ho selezionato tutta questa faccia no e quindi adesso qua vedo il cielo perché giustamente qua è andato in cielo come potrei risolvere un problema di questo tipo come giusto una chicca potrei per esempio con knife no prendere a portare un taglio no ok prendo questa faccia che questa qua per esempio no g e la potrei portare tranquillamente per esempio no in maniera molto barbara ignorante per esempio qua no no e il problema si è risolto vedete quanto diventa potente è chiaro che si ripresenta lo stesso discorso di prima cioè questa questo qua è sopra questo quindi stesso problema di prima certo se ho scelto che non è un problema che vado l'uno sopra l'altra lo posso anche fare mi sono risolto il problema che vedevo il cielo in quel caso no quindi posso anche chiaramente andare a sistemare meglio in questo caso ovviamente l'ho fatto in maniera molto grezza però posso andare a sistemare in maniera meticolosa no quindi fare eventualmente anche combaciare questi qua questi questi disegni qua quindi posso per esempio spostarla no metterla per esempio qua sistemato quel disegno posso lavorarci mille modi per esempio posso eventualmente no ricreare anche il disegno qua quindi per esempio con knife no posso prendere questo è veramente barbarissimo come lavoro però mi aiuta cioè lo posso nessuno mi dice che non non lo posso fare per esempio posso mettere questo questo qua e creare questa specie di disegno quindi il quadretto qua dentro vedete non è più che esce fino all'angolo come prima ma sono ricreato per esempio il quadretto qua dentro no e questo l'ho fatto grazie all'unbrapp è vero che ho dovuto tagliare la mesh perché ho dovuto creare l'unbrapp solo di questa faccia quando invece è il pezzo era tutto unico ma chi me lo vieta non me lo vieta nessuno tenendo sempre però in considerazione quello scopo finale qui se devo sistemare le cose in un certo modo allora lo faccio però devo sempre considerare che vi ricordo se devo usare il back questo tipo di lavoro non si fa se devo utilizzare il substance questo tipo di lavoro non si fa deve essere un lavoro pulito fatto per bene quindi con il check che abbiamo visto prima quindi le immagini le proiezioni abbastanza equilibrate quindi niente di troppo grosso niente di troppo piccolo perché sono si nota la proiezione delle delle immagini non devono essere sovrapposte nel piano di unwrap eccetera domande su questo io ho una domanda ma non è proprio su questo sì dimmi nel caso in cui vengono usate delle texture procedurali l'unbrapp serve ancora oppure non ha più tanto senso no io sinceramente non ho mai lavorato le texture procedurali con l'unbrapp perché le texture procedurali tu le puoi gestire direttamente dalla texture procedurale quindi grandezza o quant'altro direttamente dalla procedurale no poi nello specifico magari mi fai vedere per un secondo momento proprio un esempio vero e proprio lo vediamo magari assieme ok grazie va bene per esempio un pezzo di questo tipo come l'andrei a fare no per esempio una proiezione di questo di questo no qua per esempio potrei andare a a mettere per esempio un un scusate esco si esce da edit per esempio un circolo ok quindi questo circol r x 90 ok s me lo vado a piazzare meglio che possa all'interno del coso entro in edit seleziono anche questo quindi sono in edit seleziono questo con control ci siamo knife project ok quindi che cosa ho fatto tramite il cerchio non ho fatto dato che è una proiezione di taglio sulla sulla mia mesh no come ho fatto vedere sul 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 workshop bene una volta che ho fatto il taglio sulla sulla mesh di questo di questa proiezione allora i vado a inserire per esempio i vari vari step ok e ho creato l'effetto del del coso è chiaro che poi quando vado a vedere l'unwrap di questo di questo oggetto adesso no ovviamente si è andato a creare una differenza vedete quindi io potrò andare a gestire le cose che magari che non vanno quindi se per esempio ci fosse qualcosa fuori posto per esempio come potete vedere qui è pieno no cioè mi tocca perfettamente il bordo invece da questo lato vedete il bordo è qua quindi ecco e quindi per esempio posso andarmi a gestire il a decentrare a ricentrare quello che mi serve ok potrei fare per esempio se ho bisogno di ridurlo no di ridurre l'immagine all'interno s potrei vedete posso andare a fare anche cose del genere vedete come come potente questo strumento davvero una gestione impressionante del della texture sul per esempio in questo caso vedete voglio muovere questa serie di vertici che in pratica si vedono stampati qua ok posso muoverli e vedete vado a regolarli vedete che scompaia e si vado a risistemare il tutto bene domande siamo sono le 23 un buon effetto di cibo potete realizzare tranquillamente senza problemi no ma veramente in pochi in pochi clic nota che avete padronanza ve lo faccio vedere vi faccio vedere un esempio potete realizzare veramente con poco con pochi con pochi passaggi per esempio immagini come queste no questa è la cattedrale di palermo e questa questa immagine che che ho realizzato è stata realizzata semplicemente facendo delle foto foto scaricate quella da internet no alla fine questi sono cubi tirati su con chiaramente con l'unvrap fotografie stampate sopra quindi queste sono fotografie fotografie stampate sopra e poi creati vari pezzettini eccetera 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 l'importante è capire le texture come sono state applicate cioè queste qua sono tutti i piani di unwrap d'accordo se andiamo a vedere le texture sono tutti pezzi di immagini che poi sono state presente applicate prendendo l'oggetto ok io posso avere in un oggetto posso avere anche più uv map ok quindi posso entrare in edit selezionare per esempio questa faccia questa faccia per esempio al tutto l'oggetto vado a levare l'uv map su di default a questa a questo oggetto posso aggiungere un uv map ne posso aggiungere aggiungere quante ne voglio poi andarla da mettere l'oggetto quindi posso andare a gestire questo oggetto con la propria ov map e quindi con la con la propria texture volendo ok questo automaticamente lo posso andare a decidere anche mettendo per esempio a questo oggetto più materiale quindi noi sappiamo benissimo che possiamo selezionare assegnare a questa faccia questo materiale poi posso aggiungere un altro materiale e assegnarlo a questa faccia lo possiamo vedere cambiando tranquillamente il colore ok ok selezioniamo questa faccia assegniamo questo materiale vedete cambiato il come si chiama aggiungiamo un colore e quindi possiamo fare e quindi così e via via aggiungere appunto materiali e assegnarli alle varie facce quindi possiamo andare avvenute a fare tante tante belle così ok e quindi questo gestire o l'unica in un copiano che avrà seleziono e quindi vado a vedere adesso l'unvrap e quindi io mi e sei facce che compongono il cubo eccetera va bene queste facce chiaramente come abbiamo detto se le volessi spostare per esempio volessi spostare questa faccia la potrei fare tranquillamente quindi andarla a cambiare all'interno del del mio piano che in questo caso cambia poco perché posso prendere il mio marxim ritornando al discorso di prima quindi posso selezionare per esempio questo 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 e questo e questo quindi queste due facce si ribalteranno a terra questa e questa questa si aprirà così questa si aprirà così e questa si aprirà così andrà e mi va a creare la classica croce perché è come se io avessi aperto totalmente questo questo cubo facendo questi questi tagli ok quindi questo la posso andare a esportare ok come abbiamo visto prima velocemente poi poi ci salutiamo ho detto prima lo mettiamo a uno posso anche esportare ve lo faccio vedere punto 25 ok lo vado a mettere sul sul desktop e poi lo vado a lavorare con limpa quindi abbiamo adesso la proiezione del nostro cubo vedete adesso è più sbiadita per chi ti senta in trasparenza lo apro con con gimp abbiamo visto molto semplicemente vedete c'è una trasparenza quindi posso aggiungere canali poi con il programma di fotoritocco e per esempio vado ci vado ad aggiungere poco sopra un'immagine che per esempio questo qua qual è un attimo solo ok questa quella che ho scaricato prima da internet ok è chiaro che poi tutto questo qua verrà calcolato comunque vedete come avevo detto prima qui bisogna sempre a fare sapere bene gestire qui fatto questo vado a salvare sovrascrivi vado su blend in questo caso più multi materiali elimino quelli in più perché sennò dovrei scegliere su quale materiale deve andare in in l'immagine quindi seleziono solo un materiale e quindi vado ad aggiungere immagine texture e mi vado ad aggiungere appunto il quello che abbiamo fatto prima qui ed ecco qua quindi qua adesso si è andato a proiettare l'immagine direttamente su ogni faccia così come era successo in in gimp ok quindi se prendo per esempio questa faccia ok e la muovo ne seleziono una sola perché se la seleziona adesso che prende sono legate tra di loro qui posso semplicemente selezionare una faccia tipo questa qua la posso andare a muovere e per esempio andarla a mettere in un'altra posizione come abbiamo visto posso anche andare a mettere qua quindi sto stravolgendo totalmente quella che era la unwrap iniziale